. Se il tuo printer laser ha un problema di qualità e non sai da dove esattamente il problema è venuto, puoi provare il test di stop. Aggiungere un printer, solo un pezzo. Poi, aprire la copertura del printer prima che il paper si riuscirà alla unità di fuso. Il printer dirà qualcosa come un pezzo di pezzo. Aggiungere la copertura del printer o la unità di fuso. Aggiungere la copertura del printer. Aggiungere la copertura del printer. Aggiungere, c'è una copertura del toner sulla superficie della copertura. Ora, guarda il toner non riuscita sul paper e sul printer. Ovviamente, sul printer ci sarà solo un terzo dell'immagine, o meno. Puoi deducere un paio di cose da questo. Aggiungere il toner sul printer è bene, ma non è trasferito nel paper corretto. Poi, potrebbe essere qualcosa di vero con il trasmettore o il rullo di trasmettore. Aggiungere il toner sul printer non è bene. Poi, il problema deve succedere prima nel processo del printer. in questo processo del printer. Aggiungere la unità di toner, il toner roller, il toner roller, la unità di charger, la unità di laser, o il drame di OPC. Aggiungere la copertura del toner sul paper e sul drame bene. Poi, il problema deve essere in questo processo del printer, come nella unità di fuso. Ho spero di aiuto.